E' il più duro del quartiere. Che ci fai qui? Tommy è tornato. Ti ha detto se voleva vedermi? Sono fiero di te, Tommy. Sei stato grande con quel ragazzo. Che dovevo fare? Lasciarla annegare? Tommy Rirdon, mi hai salvato la vita. Senti, Brandon, la banca deve rivedere le sue stime. L'immobile ipotecato ha perso valore. Quanto ti serve? Non sono qui per un prestito, Frank. Volevo chiederti di allenarmi. Fai sul serio? Forza! Avevamo detto che non avremmo dato ai nostri figli una famiglia. il cui padre si fa picchiare per sopravvivere. Brandon, sei un insegnante. Non hai niente a che vedere con quegli animali. Veramente sono stato uno di quegli animali. L'ho dimenticata di metterlo nel curriculum, ma... ci sarà un grande torneo. I migliori sedici pesi medi al mondo. Chi vince si prende tutto. Voglio che mi alleni. In quello eri bravo. Frank, ho bisogno di farlo. Ho una famiglia da proteggere e vivo per loro. Ma che succede qua su? Papà è diventato una principessa. Mamma aveva bisogno di te. E anche io. Eri mio fratello maggiore. Mi hai abbandonato. Avevo solo sedici anni. Che cavolo ne sapevo io? Potevi scegliere. Chiaro. Potevi scegliere. L'eroe di guerra, Tommy Rirdon. Il nuovo mito del ring. Contro Brandon Cullen, l'insegnante di fisica. Un incontro storico. Ce la posso fare. Voglio sentirtelo dire. Ce la posso fare. E' fatta. E' incredibile. Questa sera darsi battaglia per la vittoria del torneo. Saranno due fratelli. Al centro. Siamo venuti qui per vincere. Se non siamo venuti qui per vincere, getto la spugna. Siamo venuti qui per vincere, getto la spugna. Siamo venuti qui per vincere, getto la spugna.